Non guardo Fiorello nella Carrà, ma solo Criscitiello e Pedulla. Non guardo Fiorello nella Carrà, ma solo Criscitiello e Pedulla. Non guardo Fiorello nella Carrà, ma solo Criscitiello e Pedulla. Non guardo Fiorello nella Carrà, ma solo Criscitiello e Pedulla. Sono fermi. Non guardo Fiorello nella Carrà, ma solo Criscitiello e Pedulla. Non guardo Fiorello nella Carrà, ma solo Criscitiello e Pedulla. Non guardo Fiorello nella Carrà, ma solo Criscitiello e Pedulla. Non guardo Fiorello nella Carrà, ma solo Criscitiello e Pedulla. Non guardo Fiorello nella Carrà, ma solo Criscitiello e Pedulla. Non guardo Fiorello nella Carrà, ma solo Criscitiello e Pedulla. Non guardo Fiorello nella Carrà, ma solo Criscitiello e Pedulla. Non guardo Fiorello nella Carrà, ma solo Criscitiello e Pedulla. Non guardo Fiorello nella Carrà, ma solo Criscitiello e Pedulla. Non guardo Fiorello nella Carrà, ma solo Criscitiello e Pedulla. Non guardo Fiorello nella Carrà, ma solo Criscitiello e Pedulla. Non guardo Fiorello nella Carrà, ma solo Criscitiello e Pedulla. Prisodio nella Carrà, ma solo Criscitiello e Pedulla. Non guardo Fiorello nella Carrà, ma solo Criscitiello e Pedulla. Non guardo Fiorello nella Carrà! Di la, di la! Nooo! Nooo! Non ce l'ho messa. Non ce l'ha inventata! Io ti ce l'ho detto! Ma cosa sono? uno e fia bella questa metti la prima Gesù Cristiano vai grido 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.